Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torno con un nuovo video, una nuova reaction, perché dopo neanche due settimane, praticamente, è uscito un nuovo MV di 101 che si chiama Boomerang, perché uno non basta ovviamente, devono fare 20.000 comeback, ma vabbè, non importa. 3, 2, 1, via. Oh, vediamo questo com'è. Ci sarà della morte, come sempre. Sì, va bene. Iniziamo già bene, cioè tipo, è il controllo dell'altro, ma ok? Oddio. Oh, porca maiana! Gli outfit! Ma cos'è? Sì, un vero donna, cos'è? Cos'è? Oh, porca miseria! Ma, ma cosa? Oh mio Dio, è bellissimo, adesso non posso fare! Cioè, è il contrario dell'altra canzone. Ma è già in te, ma siamo calmini. Oh, la miseria! Ma cosa? Oh mio Dio, io non ce lo posso fare. Oh, ciao! Ma cosa? Ma hai i capelli viola! Ma perché? Oddio! Io so se fa parole. Ma che figo! Oddio! Oddio! Cos'è questa ripresa bellissima! Ciao, bello! Oddio! E lacrimo, come sempre! Va bene! Alla mattina non mi fa bene guardare video. E ciao! Eh, sì! Va bene! Ma che bello che è! Ma queste cose dietro fighissime! Guarda che roba! Guarda che roba! Ciao! Bella! Belle! Ma bello! Ma cos'è questa ripresa fighissima! Madonna! È molto anni 90 questa ripresa. Diciamo, è un video degli NC. Oddio, ma che figata! Boomerang. No, gli outfit? Adoro. Madonna! Ma che cos'è quella cosa! Oddio! 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 Cioè, no. Bella questa ripresa! Va bene! Ma ne senti che prendono fuoco ogni volta? Ma perché? Sì. Bello! Va bene! Ma! Quante morti che vedo qua! Ma cos'è? Oddio! Cioè, non dovete permettere di avere una cosa leggera. Ma quanto sei bello! Aiuto! Ma che figata è? È tutto il contrario! Madonna! Ma te li sto la chiamando come non mai! Madonna! Quei colori di capelli! Il Kang maledito! Sì! Ma che figata è? Ma vai! Robin Hood qua! Mamma mia! Ciao! Bisogna sempre finire così! Sembra ovvio! Ma perché? Lasciatemi vivere, vi prego! Eh, certo! Mamma mia! Che suicidio! Va bene! Bene! Cos'era questa cosa bellissima! Perché devo sempre morire? Perché? Perché finisco sempre con il Kang? Perché? Lasciatemi vivere! Porca voglia! Detto questo, la canzone è stupenda! Cioè, è ovviamente diversa dall'altra! Cioè, l'altra è tutta festa! Uh! Questa è una figata allucinante, appunto! Cioè, non c'è niente da dire! Gli outfit! Ma cosa sono gli outfit? Porca miseria! E se il video vi è piaciuto, lasciate un like! Fatemi sapere qui sotto se seguite anche voi i 101! E se vi è piaciuto il loro video, perché è una cosa meravigliosa! E basta! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!